Ma oggi è anche patch di e come al solito spunta una nuova patch su Backpack, questa da parte di 5.11 Pineapple Granade. Beh, se avete visto l'ultimo video avventura disponibile sul canale YouTube, la mia avventura Monte Cassino, sapete che ormai di granate siamo diventati esperti. Quella che vedete rappresentata in questa patch, abbastanza stilizzata, prende spunto dalla cosiddetta Pineapple Granade, cioè la granata ad ananas, per gli amici la MK2 utilizzata dall'esercito degli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra del Vietnam. Le bombe a mano sono presenti da secoli nelle dotazioni degli eserciti e le prime avevano questa forma un po' tondeggiante a granata con dei chiodi dentro, con dei frammenti dentro, in grado di esplodere. Il concetto è rimasto più o meno lo stesso. E se vi piace attrezzare il vostro zaino, il vostro equipaggiamento con una patch in cuoio riportante questa granata stilizzata, beh, la trovate su Backpack.it insieme a tante altre patch. Le state vedendo passare a schermo? Sono tantissime, ce n'è una per ognuno di voi.